Gli sviluppatori di Battlejack hanno visto il video, lo hanno apprezzato tantissimo, hanno apprezzato tantissimo il supporto che avete dato e ci hanno chiesto di fare un altro video Ovviamente anche questo è un video sponsorizzato ma noi siamo felicissimi di riportare questo gioco Inoltre però per ringraziarvi per tutto il supporto che avete dato con il primo video, questa volta ci hanno dato una marea di codici da darvi Saranno belli! Durante il video vi daremo un sacco di codici per il gioco E ragazzi come va? Io sono Feri Niki E io sono Steph e questo gioco è Battlejack Benvenuti in un nuovissimo episodio di Battlejack e oggi Steph ci sarà la sfida del secolo Perché non ci sfideremo solamente noi due ma faremo una vera propria sfida tra gilde Ok, quindi mi stai dicendo Steph più consolini versus Feri più consolini Ok, con ognuna la propria gilda Esatto, e io voglio la gilda più forte quindi tutti i consolini forti devono entrare nella mia No, 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 non funziona così Stai iniziando a portarli da me Non funziona così Feri, c'è la propaganda sarà dopo Prima di tutto devo dire una cosa che non sarò un rivale proprio facile da sconfiggere Feri Perché gli sviluppatori del gioco mi hanno anche dato un power up all'account Ma l'avevato anche a me Steph Davvero? Sì, e anche io sono piena di soldi, piena di gemme, piena di carte fortissime Ma pensavo di essere quello speciale Feri Non è entrata nella sua gilda perché è scarso, cioè è chiaro, evidente, basso anche di livello, è evidente Io volevo dire una cosa, non sapendo che ci avrebbero dato il power up e gli sviluppatori Mi ero tenuto un sacco di forzirini da aprire per questo video per essere carino Guarda cosa avevo pronto, guarda, guarda, tutti questi li ho trovati e li ho lasciati lì No, però scusa una cosa Sì Io allora sono più alta di livello di te e lo continuo a sottolineare Ok Perché queste due casse viola? In realtà ne ho aperto anche un'altra, quindi Cioè le hai trovate e non le hai comprate? Esatto Infatti se io le compro si aprono instant come su Crash Royale Quindi che sono qua è la dimostrazione che non le ho comprate e le ho trovate Beh, bene Allora, no, no No, basta Facciamo un chest opening Non ho mai trovato io quelle Ti dico cosa mi serve Mi serve, ok Un mostricciatolo d'acqua Perché ho un mostricciatolo d'acqua scarsissimo Quindi ho bisogno di trovarne uno buono No, vero, anch'io ne ho uno scarso d'acqua Vero? Eh, forse non si trovano subito Eh, quelli d'acqua sono più rari Allora, vediamo un po' cosa troviamo nella prima Let's go Ok, dell'oro mi sembra giusto Poi abbiamo una chiarificazione Pozione riscaldante Pergamena base Pergamena base Pergamena base Uh, bellino questo Carino Bellino Ok, questo mi piace Ok, pozione della forza Questa è epica Ok, quindi sarà molto Oh Respirito della luce Lui è forte Eh, bisogna provarlo lui, eh Tutti insieme Acqua 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 No, vabbè Vabbè Hai trovato tante pozioni Sicuramente contanto che sono epiche e leggendarie Saranno straforti Le userò contro di te No Devi usarle per vincere con la tua gilda, Steph, ok? Allora Vediamo invece cosa troviamo qui Dai, voglio uno forte Ne voglio uno proprio di quelli belli, eh Mi raccomando Ok, le gemme Va bene Eh Già questo è raro d'acqua Però È comunque d'acqua, dai È mica male Oh Uno epico d'acqua Aspetta È normale Se riesci a inserirlo nel tuo gruppo Modifica gruppo Tolgo lui È questo È però è dimensione 6, Steph Non ci sta Non ci sta Aspetta Togliamo un attimo questo gattino Che è dimensione 9 Mi prende troppo spazio È lui, giusto? Sì, è lui Trovano un altro Forse è l'altro che abbiamo No, dimensione 10 Dimensione 7 va bene Guarda, faccio così Allora Quindi Io ti posso far Vedi qual è il problema? Che questo qua Non posso dire livello Parti all'1 e rimane all'1 Vai, Steph Vedi? Le abbiamo trovate Ne apro tre Vai Ok Vediamo cosa ci capita di bello Dai qualcosa di figo, eh Allora Una Ok Ok È comune ma è carino Devo essere sincero Perché tre carti ogni volta che ne avevo Poi Vabbè Il pesce spada in mano Ce l'avevo già Però anche questo è d'acqua Magari più forte del tuo Ah, questo ce l'ho anch'io È bello Un'alicorno scuro No, è carini esteticamente Ma mi sono incapitate delle pippe Ferris, cosa faccio? Dimmi Ma ne compro uno di quelli rari Vai, vai Vediamo cosa esce fuori Qua voglio qualcosa di bello gioco, eh Datemi qualcosa di bello Vai Bellino Cioè almeno esteticamente è una figata Però è di fuoco È di fuoco Non so se te ne serve uno Dai proviamo a combattere Vediamo come ti trovi Con il nuovo gruppo Ok Lascio la squadra così Vi dico i consolini Che sono andato un bel po' avanti E il gioco è diventato parecchio più difficile È molto difficile Questa cosa mi piace un sacco Sono belli quando sono belli costi Allora, dove c'è la luce C'è l'oscurità Sembra che il caos abbia avuto un effetto persino maggiore qui Ora che l'ordine della luce non è in grado di tenere a bada le forze dell'oscurità Ok, questo tizio con il libro in mano mi sto antipatico Eh, sì Guarda, lo seleziono perché è il primo che voglio stendere Vai, ti picchio Ok, perfetto Lo scheletro Eh, però guardi c'è i funi che iniziano a tirarti ora Beh, sì, però guarda sono comunque Aia Aia, il succhiavito è stato forte È stato forte Si è pure curato Oh cavolo Eh, beh sì Ti ha fatto praticamente il succhiavito Quindi ti ha tolto la vita e lui se l'è presa Capito? Porca miseria Devo fare attenzione Devo stenderlo Non devo fare attenzione Devo stenderlo Ok E allora concentrati No, no, è andato È andato È andato Perfetto Ti converrebbe curarti forse Allora, usiamo l'abilità sua per curarci Ok Selezioniamo il vampiro E utilizziamo l'abilità fortissima Palle di fuoco Ok, bravissimo Così uno è tolto Questo non so che abilità abbia Perché non è mio Infligge corruzione ad aria Ricarica 14 No, ce lo teniamo per dopo Ok, perfetto Ok, estraiamo un po' Stendiamo a lui che possiamo Ok Anche il fantasmino Direi di metterlo come bersaglio Sono bassissimo Eh, ho notato Sono davvero, davvero basso Il boss, secondo me, non riusciamo a farlo È il momento del boss, fare È il momento del boss Ce la possiamo fare Devi restare positiva Ciao, bellissimi Mi hanno dato una sberla Prima che iniziassi Curati, Steph Dai, curati Ho l'hai vista? Eh sì, l'ho vista Ma mi cura di 100 Eh, lo so, meglio di niente Per eroe 500 Andiamo a 1000 Tristissimo Mi devo accontentare Mi devo accontentare Sì, che ci può fare Te l'ho detto Devi prendere un curatore molto forte Perché è fondamentale Quando si va avanti Eh, ma tu sei brava Io non sono così bravo Non è che sono brava È logica, Steph È ovvio che devi avere un curatore Come fai, altrimenti Le due posizioni che io non curano, vero? Fammi fare 21 Rischio Vai, ormai Tanto sei morto No, no 3 Dammi 3 Ma dai Ti ho detto attacca Non devi fare così E tanto ero morta Avevo 200 di vita Ma no, ce l'avresti fatta Ascolta, rianima Vai, vai, vai Ci riproviamo Ci riproviamo, Steph No, no Mi hanno fatto arrabbiare Guarda questo 21 Smettila però 20, mi vabbè Mi accontento del 20 Mi accontento del 20 Abbiamo dovuto usare la rianimazione Però almeno ce l'abbiamo fatta Ce la stiamo portando a casa Eh sì, non era molto giusto usarla Però dai, ormai c'eravamo Non puoi perdere la prima battaglia Cioè io Poi nella gilda chi ci entra Se tu ci perdi, capito? È già così che ho usato la rianimazione Probabilmente non c'entra nessuno, Steph Infatti sono un po' triste Cioè io credo che resterò da solo Con un consolino Che viene giusto per farmi compagnia Certo che se per così entreranno per pena, Steph Non è una bella cosa Pericolo titano del caos Sì, lo puoi fare Ci sono questi boss casuali Ma è molto forte È abbastanza Però ce la puoi fare Dai, se ti impegni Allora Allora, prima sistemo tutto E poi ci proviamo Ok Creiamo la gilda, va 20.000 monete Allora, guild name Io direi che è molto facile Steph Ma scrivilo bene Con le maiuscule Non sta scrivendo neanche il suo nome Perché non so Steph Mi sto arrabbiando tantissimo Smettila di prendermi in giro Guarda te Quest'ascia Rossa così Perché deve far paura Descrizione La miglior gilda dei consulini Questa è una frecciatina Noi, allora Vedrai quando creo la mia Vedrai Vedrai Quindi Nome della gilda Steph il magnifico L'emblema è quest'ascia La miglior gilda per i consulini Aperta Gradi necessari Ho messo 0 E luogo Italia Crea Ok, perfetto Fatta Quindi a posto 1 di 30 È ragione Sul limite Noi non ci possiamo fare niente Ma non credo che serva Secondo me se cercate Steph il magnifico Mi trovate In ogni caso Unitevi tantissimissimissimi E adesso Ferre si crea la tua Allora Bella quell'icona La voglio presentare Innanzitutto Come emblema Ho scelto le stelline Con un martello rosa Con un pollicino Ok Perché mi sembrava giusto Comunque Giustissimo Rappresentarci bene Con il migliore dei modi Si chiama Ferre dei Queen Ovviamente Ovviamente È il mio motto Se lo vogliamo chiamare così Consulini Unitivi a me Per battere Steph E ottenere la gloria eterna E anche i biscotti Questi unisca a me Per battere Ma non vale Allora io mando una pizza Allora facciamo così No la pizza no I biscotti sono più buoni Così diventa pizza contro dolce In ogni caso Nella gilla Passeremo appunto Dei codici Che ci hanno dato gli usurpatori Che vi daranno Dei buff premium Con diverse cose Che potrete Tantissime cose fighissime Ho visto che ce ne sono alcuni Davvero fighi di codici Quindi mi raccomando Entrate nella gilla Dopodiché altri codici Li metteremo anche Nei commenti di youtube Quindi ne entraverete Sia nella gilla di Ferre Sia nella mia gilla Sia nei commenti di youtube E mi raccomando Siate veloci Perché sono codici Molto preziosi Esattamente Inoltre l'isurpatori Ci hanno anche chiesto Di dirvi che se volete Scoprire tutte le novità Del gioco Potete passare Nella loro pagina facebook E lì scoprirete Tutte le patch che devono uscire Tutte le patch che sono uscite E tantissime informazioni Esatto Super importanti Potete lasciare un like E sarete sempre aggiornati E adesso Fede Per convincere i consolini Ad entrare nella mia gilla No però non è giusto Inizio a fare le vocazioni rare Guarda me ne compro dieci Io me ne compro dieci Perché devo trovare Le persone Allora me ne compro dieci Io me ne compro venti Va bene Ma loro non lo vedranno Ma lo sanno Perché si fidano di me No Sanno che nelle battaglie Io sono migliore di te Steph Lo sanno Ok Raro Tritone Tritone ovviamente d'acqua Potrebbe essere quello Che metterò in squadra Poi Anche se mi serve un healer Due Miho Raro Molto carina Ma di fuoco Quindi non credo Perché io ho il mio oreo di fuoco Che mi piace tanto Di nuovo Ma non è possibile Vabbè però conta Che poi li potrai anche distruggere Per potenziarti le carte Quindi vabbè però Dai così è un po' troppo E dicevo che comunque Questi li potrei usare Per potenziarti Eroi che ti piacciono di più Ma perché oggi ho tutta sta sfiga Ok Ah bello Ok Ok Ce l'ho anch'io questa Questa è interessante A me serve un healer E uno d'acqua Ok dai Questo mi sa che l'avevo trovato anche prima Esattamente lui Dai qualcosa di bello Cioè sono Quattro Su nove Ok che abbiamo detto Che era bello Però non è che li devi trovare tutti così Lui mi piace Lui sembra forte Lui sembra forte Questa è bellissima Bello Dimmi il canone di fuoco Bello Bello Lui me lo mette in squadra Lui me lo mette in squadra Lui me lo mette in squadra E poi abbiamo trovato un monaco Ok Ok va bene Va bene Non mi dispiace Queste vocazioni sono andate Abbastanza bene Vediamo un pochettino Cosa potrei modificare Allora ho messo il mio eroe di fuoco Poi con l'oliverde Bellissimo Che però prende nove spazi del gruppo Su diciassette Il tritone Che è appunto d'acqua Che mi prende cinque spazi Ok E mi rimane uno solo spazio O metto il monaco Fere Oppure metto quella lì con le pistole Quella ti piaceva di più Cioè tecnicamente i monaci Dovrebbero anche poter curare Oppure no Che abilità Ah no ma quella è dimensione 5 Mi sono confuso Ah stavi leggendo Ok allora no Devi andare un po' più giù Un po' più giù Un po' più giù A prendere qualcosa Ah guarda Lui mi era piaciuto Vediamo Non mi era dispiaciuto Devo essere sincero Era il papiro Quello che avevo anche Esattamente Sì 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 Allora voglio però far salire Di livello lui Fondo uno di questi gattini Di livello 60 Guardate quanto sale Guardate quanto sale Eh vabbè Hai praticamente finito i livelli Fortissimo Però vedi Quando trovi le belle carte Tu le usi praticamente Per potenziarti le altre Quindi è meglio Anche se ne trovi doppioni Esatto È meglio Mi potenzio anche lui Devo avere tutti i fortissimi Questa volta vai Diventa fortissimo mio tritone Il livello massimo 40 Ok sono pronto a spaccare tutto Adesso Mi sento pronto Andiamo a fare il boss Per andare a fare il boss Andiamo a fare il boss Fatemi fare il boss Cosa sei titano del co-house Ma cosa Carino che È carino Ha le piante nella schiena È vero Carino le vorrei anche io E lì Sei carino Vai combattendo È proprio un paziente Facciamo Facciamo colpi Modifica gruppo No mi va benissimo così Posso entrare Dai Entriamo Let's go Let's go Let's go Ce la possiamo fare Me la sento Fremme è molto forte Sono abbastanza forti Sì Io ne ho sfidato qualcuno E sono abbastanza forti Belli resistenti Allora Però se hai fortuna E fai diversi 21 Ce la puoi fare 21 subito Vai Quasi Quasi Non è male Questo qui ha subito il suo potere Da tutti gli alleati Più una energia e abilità Ok vai vai E noi lo usiamo subito Vai tritone Andiamo all'attacco Shbibim Eh dai No Sei resistente Perché secondo me Sei riuscito a mettere Su un bel gruppo Quindi Guarda Ma lo sto devastando Fere Ma lo sto subito devastando Bravissimo Guarda qua Guarda Guarda è già basso Non mi sta facendo troppo danno Eh Infatti Me lo butto giù Me lo butto giù Me lo butto giù Aspetta che lui Ce l'ha di nuovo Questa abilità Ma il tritone è fortissimo Vai tritone Sei il migliore di tutti Fantastico Ok 18 Non è per niente male Ok Adesso sblocco la mia mia teora Vai Distruggila Eh vabbè che forte Che forte Bene così Peschiamo 15 Mi sa che mi devo accontentare Dai si non rischiamo Perché adesso sblocco l'abilità Di questo qui Vai vediamola Ok Fammi vedere un po' Colpo del masso Eh vabbè Ma è fortissimo Ho troppa paura Questo Ma se scherzi Io ti ho detto Che era forte Il mostro Consolini è entrata Nella mia gilda Perché sono fortissimo Bene che se riuscite Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vi ho detto il nostro video Potete considerare Da iscrivervi Per non perdere i video Di altri fisoni Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.